GF VIP 7. Cosa dicono i sondaggi? Nell'ultima puntata di lunedì 6 marzo il reality condotto da Alfonso Signorini ha vissuto una serata particolare, priva di eliminazioni. I vipponi hanno invece scelto il primo finalista. Al televoto c'erano Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzon, Andrea Maestrelli, Nicolin Corvaia e Davide Donadei. Alla fine la più votata è stata la modella venezuelana Oriana Marzoli. In questa settimana, inoltre, il pubblico dovrà decidere chi salvare. In nomination sono finiti Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizzon e Luca Onestini. C'è ancora un solo biglietto di ritorno di cui potranno godere i concorrenti entrati a dicembre. Ovvero Andrea Maestrelli, Davide Donadei oppure Milena Miconi. Gli altri tre biglietti di ritorno sono stati utilizzati per Charlie Gnocchi, Vilma Goic e Sara Altobello. Chi esce dal GF VIP 7? Ecco cosa dicono i sondaggi. Nelle ultime ore abbiamo assistito all'ennesimo momento no tra Oriana e Daniele. Con la vippona che ha dichiarato. Vedo che le cose non sono naturali tra di noi. Per quanto riguarda i pronostici su chi possa vincere questa edizione Edoardo Tavassi. Riferendosi proprio a Doriana Marzoli. Ha detto. Ma magari? Speriamo. Non a caso il concorrente ha scelto proprio lei quando è stato chiamato a scegliere il primo finalista. Ora, però, si tratta di vedere chi sarà il prossimo ad uscire. I telespettatori devono scegliere chi salvare e i sondaggi vedono Luca Onestini come il concorrente più votato con il 27% delle preferenze. A stretto giro c'è Nikita Pelizzon con il 25%. Al terzo posto c'è Alberto De Pisis con il 18%. Poi abbiamo Milena Miconi. 11%. Antonella Fiordelisi. 10%. Giaele De Donà. 6%. E Davide Donadei. 3%. Insomma sono proprio questi ultimi due a rischiare grosso viste le basse percentuali raccimolate. In questo momento dentro la casa sono rimasti Alberto De Pisis. Andrea Maestrelli. Antonella Fiordelisi. Daniele Dal Moro. Davide Donadei. Edoardo Donnamaria. Edoardo Tavassi. Giaele De Donà. Luca Onestini. Micolin Corvaia. Milena Miconi. Nikita Pelizzon e Oriana Marzoli. Questi invece i concorrenti eliminati. Marco Bellavia. 9 giorni nella casa. Ginevra Lamborghini. 14 giorni. Giovanni Ciacci. 11. Sara Manfuso. 17. Gegia. 21. Cristina 40. 31. Amauris Perez. 38. Elenoir Ferruzzi. 38. Carolina Marconi. 41. Pamela Prati. 52. Luciano Punzo. 32. Riccardo Fogli. 1. Charlie Gnocchi. 91. Luca Salatino. 98. Patrizia Rossetti. 105. Dana Saber. 28. Vilma Goit. 123. George Shupilan. 134. Attilio Romita. 148. Antonino Spinalbese. 158. Nicole Murgia. 72. E Sara Altobello. 119.